ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale oggi vi voglio mostrare ben tre nuove colorazioni per i kit dei miei rocchini frida vi sono piaciuti talmente tanto che le prime due colorazioni sono andate a ruba proprio nel giro di pochissimi giorni e quindi dopo è stata fatta la terza versione che anche quella sa e agli sgoccioli e quindi noi siamo già pronte per offrire altre tre colorazioni meravigliosi che speriamo vi piacciono altrettanto come le prime chiaramente troverete i kit sempre sul sito perlinefilm&co e ora passo a mostrarvi le nuove colorazioni allora una eccola qua la prima che in realtà è quella che avevo già un po mostrato sui social in quanto questa era una versione che avevo realizzato io perché mi piaceva l'abbinamento colore quando la vista analisa effettivamente detto ci dobbiamo fare il kit e quindi so che appunto sta facendo il possibile per farla per farlo il più identico possibile credo che alla fine l'unica cosa un po differente saranno i cipollotti che lei di questa colorazione non ha quindi il cipollotto sarà magari in tendenza di colore ma diverso per tutto il resto l'orecchino sarà composto da gli stessi materiali gli stessi colori guardate che belli che sono belli belli mentre allora quindi questa un po era stata vista forse anche in una diretta l'abbiamo fatto vedere poi dunque lascio per ultimo la mia versione preferita stranamente allora adesso vi faccio vedere quest'altra versione bellissima abbiamo accontentato chi ama le gocce dico chi ama le gocce perché io effettivamente ultimamente le amo un po meno rispetto quanto le amavo un tempo adesso mi piace più mettere casomai particolari tipo nappine fiorellini però effettivamente devo dire che in questo contesto la goccia sta veramente bene anche perché come vedete è identica alle super duro che troviamo qua al centro nell'incastanatura quindi abbiamo proprio fatto un abbinamento secondo me bellino molto 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 bello anzi che bellino bellissimo guardate sempre i rivoli al centro che meraviglia che luminosità che hanno e questa è la versione appunto con con la goccia così abbiamo accontentato anche chi ce l'ha richiesto perché effettivamente le altre tre versioni erano due versioni senza nulla una versione col fiorellino e tra l'altro una di quelle senza nulla aveva col meraviglioso perno lungo quindi insomma cerchiamo sempre di fare anche nello stesso modello comunque assemblaggi diversi in modo che comunque possiamo stimolare e istigare il vostro interesse poi veniamo all'ultima versione che per me è spettacolare eccola qua guardate che bella guardate che meraviglia che colori anche qua arrivoli veramente spicca tantissimo molto luminoso e in realtà questa doveva essere una versione che analisa mi aveva supplicato di fare a rombo sono sincera io ci ho provato ma non ce l'ho fatta per me frida sono quadrati poi magari se sarà un'altra versione insomma che voi che ne dite vorreste anche la versione a rombo per il kit io sinceramente ho provato adesso vabbè parte che non ci sarebbero in questi due perché chiaramente il design lo fa diciamo con questa specie di sagomatura che ha qua i lati e le punte che ci hanno sopra e sotto chiaramente quando ci sarebbe diventerebbe così che non è male però insomma per me l'originalità di frida è questa che ne dite vi piacciono queste tue colorazioni vorreste anche rombo perché se c'è la richiesta chiaramente noi provvederemo provvederò ad obbedire agli ordini in questo caso è veramente non ce l'ho fatta ho proseguito l'ho vista subito un po così poi dopo lo vedevo troppo scontato mentre così è veramente qualcosa di unico secondo me nonostante la forma quadrata che ultimamente va tantissimo però questa sagomata oggi proprio viene a piovere questa sagomatura dicevo qua ai fianchi per me e le punte che hanno sopra e sotto per me lo rendono un pochino particolare bene queste sono le tre meravigliose nuove colorazioni per i kit frida li troverete entro breve sul sito perlino e film anco che ora è a posto sapete che ci sono stati dei problemi in quanto il sito ha rinnovato la veste ma ora è tutto a posto tutto è tornato nella norma quindi presto troverete anche questi kit vi ringrazio per la visione di questo video ringrazio come sempre analisa per per continuare ad avere fiducia in me e tutti voi che mi inseguite alla prossima ciao a tutti